Natuzza Evolo Beata di beatificazione a partire dal 1 novembre 2014. Secondo le regole del diritto canonico, il complicato iter può essere avviato solo dopo 5 anni dalla morte. Così sarà perché il 1 novembre prossimo, festa di ogni santi, ricorrerà il quinto anniversario. Il cammino sarà però lungo e tutt'altro che rapido. Il disco verde dei vescovi è solo il primo step rilevante e significativo. Aperta la fase diocesana, toccherà ora alla congregazione per le cause dei santi, valutare la richiesta con indagini dettagliate e verifiche scrupolose. Siamo insomma solo all'inizio di un percorso e se l'apertura del processo di beatificazione si è rilevata assai rapida, servirà ora del tempo per completare questo nuovo cammino di fede.